Ciao, sono Stefano, sono qui oggi al Ballistic Training Specialist, il secondo corso che frequento con il maestro Emilio Troiano, che oramai inseguo da più di un anno. Oggi abbiamo fatto questo corso che naturalmente riguarda il lavoro con i kettlebell e i clubbell. Diciamo che i kettlebell e i clubbell sono strumenti antichi che oramai sono stati ripresi per gli allenamenti perché danno parecchie funzioni positive all'interno dell'allenamento. Io vengo da Bari, sono un personal trainer, un istruttore di bodybuilding, nasco come istruttore di bodybuilding. Ho praticato bodybuilding per 12 anni e ora mi sono avvicinato al mondo del funzionale perché ritengo che sia la cosa più importante e l'allenamento funzionale, lo dice la parola stessa, quello che serve alla vita quotidiana di ogni individuo e anche e soprattutto per l'atleta. Diciamo che da noi al sud stiamo ancora un po' indietro relativamente al funzionale e io spero di essere uno dei pionieri per portare il verbo del maestro Emilio Troiano giù al sud da noi. Sono davvero entusiasta e spero di andare avanti su questa strada e per poter portare davvero il funzionale almeno nella mia città. Tutto qui, grazie a tutti e grazie al maestro che è veramente una persona in gamba.